Fondi sono legati al turismo. Rosario Crocetta e la maggioranza bloccano le nuove modalità di selezione dei dirigenti di aziende sanitarie ospedaliere lanciate dall'assessorata a cui fa capo Lucia Borsellino. La proposta di quest'ultima faceva leva su una commissione indipendente che avrebbe dovuto valutare e selezionare i nuovi manager. Questo punto è stato oggetto in passato di speculazioni che hanno contribuito a rendere il settore sanitario siciliano tutto fuorché perfettamente efficiente. Il proposito di destinare la scelta a una commissione lontana dal patio della politica era volto proprio a evitare contaminazione nelle scelte. Fin qui nessun problema, finché non sono stati individuati i criteri di selezione dei manager. Questo punto sembra essere stato il movente che ha indotto Crocetta ad annullare il tutto, rivendicando per il governo la valutazione. Uno dei punti maggiormente additati sembra riguardare i cosiddetti 40 punti su 100, che nel sistema di punteggio sarebbero stati attribuiti a personalità con esperienze pregresse in grosse aziende. Il tutto avrebbe comportato quindi una predilezione per manager di vertice con esperienza pluriennale e che quindi, a parer del governo e della maggioranza, avrebbe cambiato poco. I nuovi dirigenti saranno monitorati sulla base dei curriculum escremati dalla commissione esaminatrice, che porterà al governo 50 candidati, dai quali usciranno i 17 nuovi manager. Come detto, il dietrofronto riguarda non solo l'esecutivo, ma anche la maggioranza. Secondo il centrista Totolentini, la procedura avrebbe lasciato non pochi scetticismi, in quanto, dice, coloro i quali hanno contribuito al disastro della sanità vanno esclusi. La stessa commissione sanità all'Assemblea regionale siciliana si è mostrata tendente a scartare il sistema a punteggio, come confermato anche dal presidente di commissione Di Giacomo, deputato del PD. La scelta non ha lasciato inerme l'opposizione, che denuncia già il golpe senza troppi giri di parole, come dichiarato da Santi Formica, capogruppo della lista musumeci. Intanto si paventa il rischio di frizione tra Lucia Borsellino e lo stesso Crocetta. Secondo Di Giacomo, però, la stessa Borsellino avrebbe accolto senza ostilità la modifica.